Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro gioco. Ebbene sì, siamo su Black Myth Wukong perché oggi voglio fare una piccola guida o comunque voglio parlarvi in generale del gioco che sto giocando in questo periodo in live su Twitch quindi potete venirmi comunque a trovare la sera se vi fa piacere ma la cosa di cui oggi voglio parlarvi di questo gioco non è la classica recensione, non sono robe, impressioni eccetera eccetera anche se ci sarebbe tanto di parlare di questo titolo che un po' è sulla bocca di tutti per lodi, pregi, difetti e situazioni in generale che però a me non mi interessano perché mi devo giocare il gioco, mi devo godere il gioco e basta quindi non ci saranno problemiche da parte mia ciò di cui voglio parlarvi oggi sono degli oggetti speciali o comunque degli oggetti unici che si trovano all'interno del gioco che personalmente parlando sono riuscito a sfruttare per culo proprio ve lo dico chiaro e tondo proprio per una botta di culo incredibile perché io sono comunque un giocatore che è molto fissato con il backtracking è molto fissato nell'esplorare bene le mappe anche perché in questo gioco che almeno a parer meno è comunque un misto un connubio tra un action rpg e un souls fondamentalmente parlando perché lo stile di combattimento e la dinamica del combattimento è molto action mentre invece l'ambientazione la struttura dei livelli e anche determinate interazioni con i livelli come delle side quest o comunque gli npc che ci sono all'interno del gioco eccetera eccetera sono in uno stampo prettamente souls e di questo ovviamente possiamo esserne tutti d'accordo ed è esattamente di questo che voglio parlarvi dell'aspetto souls che caratterizza fondamentalmente questo titolo che non solo vi consente di ottenere degli oggetti ma vi permette di affrontare delle boss fight speciali e segrete in alcuni casi e ottenere comunque degli oggetti interessanti per il vostro avanzamento di gioco quindi di cosa parliamo oggi? parliamo di oggetti diciamo unici di items unici che si ottengono all'interno del gioco che si possono sfruttare tramite backtracking ed è esattamente lì dove voglio portarvi in una questione letteralmente di culo dove io girando la mappa avendo la possibilità tra una live e l'altra di fare backtracking e giocare off camera ho fatto delle cose che non ho registrato perché non saranno diciamo incluse in quello che sarà il mio gameplay in live ma che comunque sia mi permettono di parlarvi di queste cose iniziamo però dalle basi il nostro inventario come appunto vi stavo dicendo prima è caratterizzato da diverse finestre ovviamente quindi gli oggetti normali i materiali per il crafting le bevande che si ottengono durante il gioco e che si possono sfruttare in un modo o nell'altro gli ingredienti per creare le pasticche o comunque in generale i potenziamenti che si utilizzano all'interno del gioco e poi gli oggetti chiave ovvero gli oggetti unici ancora non so tutti come funzionano fondamentalmente ma vi farò dei video specifici proprio dove parlerò comunque di determinati oggetti e oggi vi voglio parlare del vecchio tamburello il vecchio tamburello è un oggetto leggendario unico che si prende nel secondo livello ovvero quello desertico quello dove mi trovo in questo momento questo vecchio tamburello vi darà la possibilità di affrontare un boss speciale un boss segreto che vi consentirà di ottenere uno spirito e cosa sono gli spiriti? gli spiriti sono praticamente delle trasformazioni che vi consentiranno di effettuare un attacco speciale premendo i tasti L2 e R2 se siete ovviamente da Playstation oppure RT e LT se siete da Xbox o da PC come sono io in questo caso anche se in realtà io ho qua ogni volta i controller ecco devo mettere questo per avere i tasti poi della Play quindi in questo caso esatto vi posso far vedere i tasti della Play vi permetterà di ottenere uno spirito in questo caso lo spirito della Tigre Furiosa uno spirito che sinceramente non è così figo se devo essere onesto a me non mi piace tantissimo perché comunque vi riduce vita vi riduce... sì fondamentalmente vi riduce la vita perché vi toglie addirittura 75 punti in HP che sono parecchi però vi aumenta comunque il danno di quasi 10 punti che non è poco vi posso garantire che non è poco però secondo me il gioco non vale la candela proprio letteralmente parlando ma per prendere questo spirito che cosa dobbiamo fare? per prima cosa bisogna ottenere il tamburello questo tamburello e dove si ottiene il tamburello? si ottiene nella valle desertica ovviamente nella... diciamo nel villaggio appunto questo... cioè no nel villaggio dei sabbia proprio nella zona desertica quindi il secondo livello e bisogna arrivare praticamente qui eeeh... qua alla formazione del vento giallo questa è una zona che possibilmente molti possono aver schippato per un motivo o un altro perché nel vostro gameplay di storia principale il vostro obiettivo sarà quello di raggiungere il tempio della tigra acquattata e una volta raggiunto il tempio della tigra acquattata entrare nel tempio questa cosa invece non la dovete fare e vi spiego anche il perché quindi andiamo nel tempio della tigra acquattata proprio per darvi un punto di riferimento perché magari uno dice eh... ma io il teleport non l'ho sbloccato come faccio ad avere quel teleport? come faccio a sbloccare quel teleport? vi faccio vedere ovviamente la strada che dovrete fare e come sbloccare i vari teleport il tempio della tigra acquattata è appunto una zona che si raggiungerà di trama quindi su finacqua voi ci arriverete in un modo o nell'altro anche esplorando la mappa e perdendovi come me 200.000 volte perché non c'è la mappa ma qui comunque ci arriverete prima o poi una volta raggiunto il tempio della tigra acquattata affronterete la boss fight perché ovviamente affronterete la boss fight e si trova esattamente qui una volta abbattuta la boss fight si aprirà la bocca della tigra che vi permetterà di entrare all'interno del tempio voi invece se volete continuare ad esplorare come ho fatto io dovete andare alle spalle del tempio e proseguire praticamente su questa strada una volta che voi proseguirete su questa strada dovrete salire tutta questa zona collinare quindi fare praticamente proprio una bella scalata una volta terminata la scalata troverete qui il primo santuario il santuario che in questo caso vi farà arrivare appunto al ponte del riparo dei venti una volta che arriverete in questa zona ovviamente vi riposate fate quello che volete dovrete necessariamente proseguire perché da qui la strada ovviamente diventa una strada a senso unico una volta che arrivano una volta che sarete arrivati qui quindi avendo fatto tutta la strada che avrete visto probabilmente accelerata ma non in maniera esagerata proprio per permettervi di guardare ovviamente vi ricordo anche di esplorare tutti gli anfratti che trovate perché ci saranno forzieri ci saranno comunque delle robe che potrete raccogliere quindi mi raccomando qui arriverete al secondo tempio o comunque al secondo santuario dove potrete riposarvi potrete ricaricare le energie e dopodiché andare ancora avanti eccoci qua il vostro obiettivo vediamo se mi hanno seguito no ok il vostro obiettivo sarà quello di arrivare in questo ponte in questo ponte affronterete una boss fight una volta che avrete completato la boss fight e eliminato il vostro nemico otterrete finalmente l'oggetto in questione ovvero il tamburello quindi il vecchio tamburello una volta preso questo vecchio tamburello la sua storia chiamiamola così è molto particolare perché narra le vicende di un padre e un figlio che sono nati e cresciuti in questo villaggio che poi hanno avuto un destino particolare infatti la descrizione parla e dice sebbene questo tamburello sia logro e malconcio quando percorso emette ancora un vivace scalpitio questo perché? perché era questo tamburello era il gioco preferito del figlio della boss fight quindi quando voi combatterete la boss fight starete combattendo il padre di questo ragazzo la boss fight comunque non è difficile così come tutte le boss fight fondamentalmente non sono troppo difficili proprio perché non stiamo parlando di un souls dal punto di vista di combattimenti e appunto meccaniche di combattimento ma alcuni aspetti souls sono in tutto ciò che lo circonda e una volta ottenuto questo tamburello bisognerà farlo suonare in tre posti differenti che ovviamente vi farò vedere allora il primo luogo dove bisogna suonare il tamburello perché purtroppo bisogna trovare i luoghi in ordine e non si possono trovare a caso cioè nel senso sono tre luoghi specifici in cui dovrete suonare il tamburello e dovrete necessariamente andarci in ordine perché sono per l'appunto tre indizi che vi dà lo spirito di questo bambino per trovarlo e successivamente affrontare la boss fight il primo luogo che dovrete raggiungere si trova qui ovvero ritornate nella zona prima del villaggio quella proprio esattamente dopo il tempio della tigra acquattata quindi il teleport che avete sbloccato in precedenza e rifate parte della stessa strada che avete fatto prima solo che questa volta bisognerà andare da un'altra parte dovrete fare una piccola deviazione e adesso ovviamente vi farò vedere quindi prima andate di qua verso sinistra successivamente rientrate nella zona a destra se magari mi facessero passare poi si rigirate di nuovo qui a destra proseguite la strada verso il ponte e vabbè questo si è girato così va bene queste sono delle robe che comunque vi capiteranno spesso e volentieri in gioco senza senso proprio però ok poi girate a destra quindi anziché andare dritti verso la boss fight dove appunto siamo andati prima bisognerà girare qua a destra una volta che girerete qua a destra appena entrerete in questa zona dove ci sono tutti questi monaci che stanno in ginocchio pregando o comunque stanno dormendo non lo so vedete voi vi apparirà una sorta di illusione dove appunto il bambino in questione vi chiederà di suonare il tamburello quindi voi preverete quadrato o il tasto x in base a quale console state giocando e avrete soddisfatto la prima condizione del ragazzino che vi darà il suggerimento per trovare il secondo luogo che adesso vi farò vedere il secondo luogo invece dove dovrete suonare il tamburello è abbastanza semplice da raggiungere dipende in che fase siete perché nel secondo livello una volta che lo avrete completato o comunque avrete fatto la maggior parte delle cose sbloccherete diverse porte che vi permetteranno di fare delle shortcut e qui abbiamo due possibilità per raggiungere questo luogo il primo che è quello più semplice e che vi raccomando io si trova nella valle della disperazione quindi dove avrete affrontato la boss fight del ratto grande con il ratto piccolo quindi la doppia boss fight praticamente quasi all'inizio del secondo livello e una volta arrivate in questa zona sbloccherete la porta verso fine livello quindi dopo che avrete ottenuto tutti gli oggetti chiave sbloccherete la porta che praticamente vi bloccava l'accesso e potrete scendere da questa scalinata e poi successivamente girare a destra dove trovate quel nemico lì quindi nel momento in cui voi arrivate in questa zona passate da questo lato evitate qui i nemici o comunque poi li potete tranquillamente eliminare e una volta giunti in questa zona suonerete il tamburello quindi vi ricordo sempre che nelle zone dove si suona il tamburello noterete sempre questi monaci queste specie di monaci che sono praticamente in fase di preghiera o comunque in fase di catalessi più che altro e che quindi potrete riconoscere e identificare le zone nello specifico anche perché questo bambino vi dirà spesso e volentieri di quanto era bello il villaggio quanto lui si divertiva nel villaggio eccetera eccetera quindi basta che voi troviate i popolani in questo caso perché questi sono tutti i popolani del villaggio avrete diciamo una vaga idea di dove suonare il tamburello quindi anche in questa situazione suonate il tamburello e poi vi dirigirete verso la terza posizione qualora invece non abbiate ancora sbloccato la porta c'è un altro modo per raggiungere questa zona che è esattamente dal lato opposto quindi da questo lato quindi voi arriverete praticamente dal ponte perché avrete eh vabbè avrete la possibilità di attraversare questo ponte ma molto più avanti nel gioco cioè nel senso molto più avanti nel livello perché voi farete questa strada anche dall'altro senso infatti se voi praticamente percorrete questa strada al contrario arriverete prima o poi durante il vostro gameplay comunque durante la vostra esplorazione del livello in questa zona dove da lì di fronte a me scivolerete tutta la zona delle sabbie e poi arriverete in questa in questa zona dove appunto avrete questo santuario e questa porta da poter sbloccare successivamente questa zona questo anzi questo santuario in realtà è il santuario della porta di tenuta del vento quindi quando arriverete nella porta di tenuta del vento potrete rifare la stessa strada però al contrario e quindi anziché andare a destra poi al ponte girare subito a sinistra detto ciò andiamo al terzo luogo dove suonare il tamburello e finalmente incontrare la boss fight una volta suonato il tamburello nella seconda location potrete ritornare alla valle della disperazione quindi questo sarà il vostro luogo dove avere fondamentalmente punti di riferimento importanti vi posso assicurare importanti anche per il prossimo oggetto di cui vi parlerò nel prossimo video e successivamente anziché andare verso sinistra o dritto per proseguire bisogna ritornare indietro quindi dovrete ritornare praticamente al villaggio una volta ritornato al villaggio dovrete andare inizialmente verso destra quindi ripercorrere la strada dove avete affrontato il lupo di pietra che è un altro boss che comunque tendenzialmente si dovrebbe scontrare non dico per trama ma proprio per passaggio diretto proprio perché voi passerete da questa zona e tendenzialmente affrontere del boss anche perché affrontando questo boss avrete la possibilità di parlare poi con un altro NPC che si troverà esattamente qui dove c'è questo templio con questa con questa statua gigante e qui appunto c'era il cavallo che avete incontrato anche nella prima nel primo livello ovvero nella foresta una volta arrivati qui dovrete semplicemente girare qui a sinistra e il bambino una volta arrivati qui inizierà a chiedervi il come voi siete riusciti a trovare questo posto e dopodiché vi apparirà con una cutscene quindi con un filmato e vi chiederà successivamente di controllare se il suo amico in questione sia ancora bene e abbia la possibilità di giocare insieme quindi immaginatevi già che cosa vuol dire giocare insieme una volta arrivati qui vi apparirà l'interazione di saltare dentro il pozzo quindi noi potremo tranquillamente saltare dentro il pozzo così come ha fatto il bambino perché anche il bambino nella cutscene salterà il pozzo e una volta saltato il pozzo avremo la possibilità di incontrare il boss guardare la cutscene e poi affrontarlo all'interno di questa arena il boss vi posso garantire essere molto forte perché picchia come una bestia letteralmente però è anche molto debole di HP infatti il suo spirito una volta che l'avrete sconfitto vi consente di ottenere appunto la possibilità di evocarlo come spirito perché lui appunto è uno spirito però come notate ha molti danni quindi vi permette di aumentare i danni a discapito della salute quindi voi comunque affronterete un boss che non ha tantissimi HP però se vi becca vi potrebbe fare tanto male quindi fate attenzione combattetelo al meglio delle vostre possibilità e ovviamente non c'è nient'altro che debba dirvi per quanto riguarda l'utilizzo di questo oggetto leggendario ovvero il vecchio tamburello quindi spero che questo video possa esservi stato utile fatemi sapere ovviamente se avete già trovato il boss e affrontato il boss tramite il vecchio tamburello oppure se non l'avete fatto adesso sapete come poterlo fare e recuperare del content che vi eravate lasciato alle spalle detto ciò io vi ringrazio per essere stati con me e come sempre ci becchiamo alla prossima ciao 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 Grazie a tutti.